Avrebbe rapinato una persona affetta da minorazioni fisiche di alcune centinaia di euro appena prelevati ad uno sportello banco, ma atti in pieno centro a Sant'Agata di Militello lo scorso primo febbraio. Questa è l'ipotesi accusatoria a carico di un quarantenne tunisino residente nella cittadina tirrenica, nei cui confronti il GIP del Tribunale di Patti e Eugenio Aliquo, accogliendo il quadro indiziario ricostruito dalla procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Fondamentale il tempestivo intervento nell'immediatezza dei fatti e le successive indagini condotte dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Sant'Agata di Militello, guidati dal vicequestore Giuseppe Ambrogio e coordinati dal sostituto procuratore Giovanna Lombardo. I poliziotti, allertati della rapina, hanno infatti raggiunto la vittima, che seppur affetta da minorazioni fisiche, è comunque riuscita a descrivere i fatti indicandone luogo e tempo, e precisando di essersi vista sottrarre con la forza una somma superiore a 300 euro. La vittima, stando alla ricostruzione della questura, aveva da poco effettuato un prelievo presso un bancomat cittadino, quando è stata presa di mira dal presunto rapinatore, quarantenne tunisino residente nella cittadina nebroidea. Quest'ultimo avrebbe dapprima malmenato la vittima e successivamente l'avrebbe trascinata in una via poco frequentata, dove tenendolo fermo gli avrebbe sottratto il denaro. Solo grazie alla resistenza della vittima il bottino non sarebbe stato ingente. Con un'indagine lampo, gli agenti del commissariato santagatese sono riusciti ad identificare il presunto autore della rapina e a segnalarlo tempestivamente alla procura della Repubblica di Patti. Fondamentale a tal fine è stata anche la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installate nell'area dove si sono svolti i fatti. Il GIP, accogliendo il quadro indiziario offerto, ha emesso il provvedimento cautelare, eseguito dai poliziotti del commissariato santagatese il 20 febbraio scorso. L'indagato, una volta rintracciato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.